La CGL Abruzzo ha inviato questa mattina una diffida all'assessorato regionale alla sanità per denunciare la difficile situazione dei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi, intimando alla regione di attuare tutte le azioni necessarie a ripristinare le migliori condizioni per i degenti che restano anche per più ore nella zona di emergenza urgenza. Sono mesi che nelle prime pagine di tutti i giornali locali vengono fuori i problemi della sanità e oramai del diniego del diritto alle cure dei cittadini, dalla questione dei pronto soccorso per i quali abbiamo fatto formale denuncia, la questione delle liste di attesa che spesso sono chiuse e bloccate per prenotare una vista che addirittura ci si prenota al 2024. E' messo in discussione il diritto alla sanità dei cittadini abruzzesi, questa dovrebbe essere una priorità della regione Abruzzo, della giunta regionale, ad oggi non sta accadendo niente, non c'è un atto di programmazione, dal punto di vista del personale che è una priorità perché la sanità la fanno soprattutto gli operatori sanitari, medici e infermieri, in due anni e mezzo non abbiamo un atto complessivo di programmazione seria che riesca a mettere personale dentro la sanità. E quindi oggi una denuncia formale perché la nostra regione, i cittadini abruzzesi, non meritano di vivere in questa situazione di disagio e messa in discussione il diritto alla cura. La CGL ha poi puntato l'indice anche sulla cronica mancanza e carenza di personale medico e paramedico nei reparti e anche nei presidi di pronto soccorso. Sono anni che chiediamo di conoscere la consistenza delle dotazioni organiche, sapere a fronte degli annunci dell'assessore alla salute che rivendica centinaia e migliaia di assunzioni quanti dipendenti sono andati in pensione perché dovremmo partire da questi. Per ultimo, il tavolo di dieci giorni fa, noi non abbiamo sottoscritto un accordo in quanto non solo si rifiuta e si rimanda ad ottobre, ad autunno, la stipula di un accordo per la stabilizzazione, tenuto conto delle previsioni del comma 268 della legge di bilancio che permette addirittura la re-internalizzazione di servizi, ma si peggiora la norma nazionale per la stabilizzazione dei tempi determinati rischiando di inficiare l'intera procedura perché noi pensiamo che una norma nazionale non possa essere violata.